Salve a tutti i recolti e benvenuti finalmente con il secondo episodio di Pokémon Full Moon, il fangame che abbiamo cominciato ragazzi due giorni fa qui sul canale del Rochette. Allora, visto che vi è piaciuto davvero tantissimo ragazzi, infatti nei commenti vi trovo veramente pareri e entusiasti su questo fangame, l'avete trovato veramente carino e molto molto particolare. Infatti è una storia veramente diversa al solito da tutti i giochi Pokémon e quindi vi è piaciuto davvero tanto ragazzi e di questo sono veramente molto molto contento. Allora, quest'oggi dovremmo procedere verso la flying cave mi pare se non sbaglio, quindi dovremmo andare in caverna e ragazzi visto che dovremmo andare in caverna e il nostro starter era un Arcanine, io non mi sentivo al sicuro e quindi qua fuori nell'erba della casa di Chan ragazzi, ho catturato un Bulbasaur. Allora, Bulbasaur, quello qua ragazzi veramente è difficilissimo a catturare Bulbasaur, ci ho messo veramente in secoli a catturarlo ma alla fine ce l'ho fatta. Bulbasaur a livello 9 con anche Frustata e Lich Seed che ci saranno veramente molto molto utili. Più difesa speciale e meno difesa ma questo ragazzi non importa, comunque sia va bene lo stesso. E le mosse sono buone, poi ho provato anche Arcan fino a livello 10. E prima di proseguire ragazzi devo farvi vedere alcune cose. Prima cosa, mi sono dimenticato di prendere uno strumento nella libreria di Chan, che appunto mi sono dimenticato e alcuni di voi mi hanno fatto notare che mi hanno appunto dimenticato questo strumento. Allora, lo strumento è semplicemente questa cosa viola che c'è qui nell'angolo, Reaper Clove, che ragazzi sarebbe il Terror Panno, lo strumento che fa evolvere Duskloops in Dusknoir. Quindi quello con lo strumento lì praticamente, di quarta generazione. Poi, adesso, allora vi devo far vedere ancora due stanze che non avevo notato io nello scorso episodio. Qua ci sono delle stanze qua, qui c'è questa specie di cucina con la macchina per cuore di Pokémon, appunto guardate qui, come nel centro di Pokémon. Mentre, qui ragazzi abbiamo una specie di stanze dove ci sono delle macchine strane e questo sembrerebbe un Pokédex. Ok, è rotto, ma quindi non possiamo prendere il Pokédex ragazzi. Vabbè, non importa. Prima di proseguire nella caverna, però, voglio farvi vedere una cosa. Infatti nella scorsa parte, se vi ricordate, Chan aveva parlato dei Rapidash selvaggi praticamente, dei Rapidash che corrono in questa zona. E guardate qua, se c'è ancora, guardate, eccolo qua ragazzi, Rapidash che corre, blocchiamolo. Rapida, Rapido scappa via. Quindi Rapidash è scappato via ragazzi. Una cosa molto molto carina che ho notato, che volevo assolutamente farvi notare. Quindi, ragazzi, dopo aver fatto queste cose, buttiamoci nella caverna. Ecco che ci sono anche i nostri amici della scorsa parte, Chan e i due ragazzi di cui non ricordo al momento il nome. Allora, sono pronta. Bene. Andiamo, forza. E scappa via, così. Aspettaci, Dinor. Ah, quindi se no, Dinor l'altro non ho visto. Andiamo, cara. Ok ragazzi, quindi, speriamo che non ci siano troppi Pokémon selvaggi. Ah, Morons, non so cosa voglio dire Morons. C'è una sua traduzione letterale di Morons. Comunque, se la ride la nostra cara Moon, la protagonista di questo fangame, totalmente inedito. Ragazzi, allora, intanto mi piace un sacco questa caverna e questa host. Ma, ragazzi, le host sono una garanzia strumenti, finalmente. Sulla pozione. Bene, mi ci sarà avuto sicuramente. E 10 Poké Ball. Ok. Il rifornimento l'abbiamo fatto già subito. Ok, mia figlia mi dice sempre. Ok, this is the best around. È il meglio che ci sia. Ok, va bene. Molto bene. Mike, archeologo, con Omanite. Lord Elix, subito. Li vedo 10! È un pazzo! Con Street, non importa, ragazzi. Noi abbiamo Bulbasaur con Frustata per 4. Però non gli fa neanche metta vita, ragazzi. Lord Elix si conferma una roccia. E in effetti, ragazzi, è veramente un Pokémon. Di tipo roccia. Mamma mia! Mamma mia, se mi fa... No, mi ha fatto fuori Bulbasaur. Come ha fatto a farmi fuori Bulbasaur? Vabbè, non importa. Ragazzi, se l'Ordx ci fa fuori, io non ho niente in contrario. Vabbè, no, però dobbiamo vincere. Grande Alkmen, così ti voglio. Minchia, pensavo che non buttasse giù, ragazzi. Infatti, per il momento, mi sono abbastanza spaventato. Luna, non mi deludere, ok? Molto bene. Allora, comunque, ragazzi, vi volevo dire... Sì, mi avete anche... Flying Cave piano 2. Cosa? Un dungeon? È come se fosse un dungeon, alla fine. Bello. È un dungeon vario, misto. Ehi, ragazzi, sono qua su. Ah, Luna. Vieni... Vieni... The Wrong... Vieni qui che... Quindi era stata sbagliata, praticamente. Non ridere di lei. Ok, ragazzi, cominciamo già di nuovo. Cominciamo già di nuovo con le prese in giro qua, eh. Eh, non va bene. Ok, vediamo un po'. Swind. Però, mi sorge una domanda spontanea. Dove è la sala giusta, però? Scusatemi. Se questa qua è la sala sbagliata, giusto? È sbagliata o giusta questa sala qua? Mi pare che sia sbagliata, sicuro. Ok, quindi... Però, se è sbagliata... Dove dove dobbiamo andare? Ah, c'è la sala di sopra, giusto. Noibat? C'è Noibat qui sopra. Ok. Mi piace Noibat. Ok, vediamo un po'. È sbagliata o stavolta un'altra volta. Porca miseria. Ok. Oh, eccoci qua. Vediamo un po' cosa dicono. Sono qui. Oh, grazie a Arcius. Ce l'hai questo Arcius? Mi stavo preoccupando. Eh, aspetta. Ma dov'è Dinor? Ah, è corso via, praticamente, dalla Noff. Sì, pensava di... Pensava che fossimo troppo lenti, quindi ha detto che ci aspetterà all'uscita, praticamente, ci aspetta più avanti. Oh, ok, ma guarda questo ghiaccio. Ah, dobbiamo andare avanti noi, proprio prima del signore, proprio alla lettera mi prendete. Ok, posso, insomma, step, camminarci sopra, scivolarci sopra, insomma. Sì, certo che puoi, ma è molto... Se è scivoloso, slip o in un secondo, se è scivoloso, pensa. Penso. Eh, ok, possiamo trovare la sala giusta, ti seguiamo. Ok, quindi noi, ragazzi, dobbiamo fargli strada questi due imbecilli, praticamente, questi due incapaci di cianne e... Non so come si chiama quel tipo lì. Ok. Eh, ragazzi, è abbastanza difficile questo labirinto di tipo ghiaccio, ma ce la facciamo? Ce la facciamo? Faremo del nostro meglio, sicuro. Questo è poco, ma sicuro. Eh, ok. No, 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 è sbagliato, è sbagliato, non è così. Ragazzi, eh, io odio questi labirinti, voi ormai lo sapete, ma speriamo che riusciamo... No, dai, come faccio ad arrivare lì? Scusate, scusa, scusami, eh. Scusami, eh. Come faccio ad arrivare lì? Ma tu, tu, non stai proprio bene. Ok, ce l'ho fatta, forse. Allora, la Pokéball è una Pokéball. E questo è poco, e questo era abbastanza scontato. Qua sotto ci sono i serbatici, come sempre. Vediamo... Uh, un Bergmite! Mi piacerebbe avere un Bergmite. Ragazzi, non ho mai allenato un Bergmite, ma è in vita mia. Cioè, mi piacerebbe allenare un Bergmite, so che ci penso, eh. Un Pokémon che veramente nessuno, nessuno si fila, ragazzi, il Bergmite, ma... Ok, il Bergmite flincia. Io poi vai a catturarlo, ragazzi, un Bergmite. Proviamoci, dai. Mi ispira, non ho mai avuto un Avalug, mai. Mai nella vita. Uno, due, tre. Catturato Bergmite, ok. Mi ispira, ragazzi, non so perché, ma lo voglio allenare. Lo voglio allenare. Ok, niente sopra il nome. Ok, mi piace. What the fuck? Questo chi è? Questo chi è? Scusatemi. Ok, ho sentito una leggenda riguardo il rituale su queste rocce. Veramente? Ho sentito che... Se praticamente puoi evocare... Puoi evocare Regice? Sto preparando il rituale? Cosa? Praticamente, ragazzi, questo cazzo vuole evocare Regice. Ho capito bene? Mi sa che ho capito bene. Quindi, niente, lasciamo ai suoi... Alle sue danze strane. Lasciamolo lì, insomma, ragazzi. Non ci deve interessare a noi. Comunque... È un bel problema adesso. Perché io poi non posso fare più niente. Quindi voglio correre qua sopra. Però, però, però... Come faccio ad arrivare lì? Scusatemi. Non posso arrivare lì. Non posso arrivare dall'altra parte. Cioè, come faccio? Ok. Allora... No, è... Sto puzzle... Sto puzzle è di una difficoltà immonda. Veramente. Cioè, no. Ok. Sono arrivato qua. Sono arrivato qua. E di qua ce l'ho già andato, vero? Sì. Sì. Ok. Da questa volta sono già andato, ragazzi. Però... Mi viene il dubbio. Come che lo faccio io ad andare avanti? Ehm... Allora, mi viene... Facciamo così, ragazzi. Appena ho finito sto labirinto, mi faccio trovare nel punto di uscita di questo pavimento ghiacciato, ragazzi. Sennò qua ci mettiamo veramente una vita. Ok, ragazzi. Ce l'ho fatta. Praticamente bisogna passare nel pavimento ghiacciato di sotto e arrivare fin qui. Good job. Sì. Intanto il lavoro sporco l'ho fatto io, caro Kane. Ok. Ciao, vieni qui, raggiungici. Dov'è? Sto infani. Guarda lì come scivole. Madonna, ragazzi. Mi viene veramente... Mi viene peggio a cosa. Ho dovuto fare tutto io, questi che mi seguono. Vabbè. Ok. Avete visto... You guys saw that... White thing. Sì. Avete visto la cosa che sta qua sopra? Sì. Ok. Non ho visto lì cosa possa essere. Ok. Molto bene. Praticamente, ragazzi, hanno visto cose strane. Queste cose qua sopra. Ok. Io non ho visto niente, però... Mi spiegate cosa c'è qua sopra. Cioè, io non ho capito cosa c'è qua... Basta, selvatici. Veramente, basta. Ok. Ragazzi, io aspetto che ci vanno i repellenti. Anzi, appena posso comprare i repellenti, me ne compro 200.000. Perché no? Ok. Perché qua, veramente... Dove cavolo dobbiamo andare? What the fuck? E questo chi è? E questo chi è? Scusami. Cos'è? È tipo un ponte... Cioè, perché c'è dato uno snizzle? C'è dato... C'è regalato uno snizzle questo qua. Perché? Ok. Minchia, snizzle. Guardate che snizzle. Guardate che attacco che ha snizzle. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto all'attacco di snizzle. 23. Ok, ragazzi. Altra piccola introduzione perché mi avevano, appunto... Mi avevano comprasti i peggio aggiornamenti sullo schermo per quanto riguarda Windows. Quindi... Quindi, andiamo avanti. Cerchiamo di andare avanti senza aggiornamenti di Windows vari, magari. Ok. Grazie, Windows. Ok. Possiamo fuggire, visto che è molto, molto veloce il carissimo... Il carissimo... Ah... Snizzle. Molto bene. Allora, io mi sa che dovevo passare di sopra. Quella brutta sensazione che mi attana... Ecco, mi sa che... Ecco, appunto. Dovevo passare di sopra. Sono veramente, veramente euforico. No, non sono euforico. Perché ho sbagliato strada e non so più come tornare indietro. Ok? Sono tornato indietro. Però so già che mentre tornerò indietro, incontrerò 200.000 Pokémon selvatici. Cosa che odio. Cosa che odio. Perché... Non... Perché... Perché senza repellenti? Perché siamo senza repellenti in una grotta lunga 2 km e incontriamo selvatici ogni 2 secondi? Veramente, no, no. Questa cosa non mi piace. Ok, comunque. Vediamo di andare avanti. Perché troverà forse un episodio leggermente più lungo per colpa dei selvatici. Dimmi che non si trovano anche sul ponte. Perché anche sul ponte si trovano i selvatici? Non ha senso logico sta cosa. Si trovano gli swinehab sul ponte, così. Ok. Comunque. Andiamo avanti. Qua ci sono i peggio bug, intanto. Mio Dio, i peggio bug. Veramente. Questo... Questo chi è? Questo chi è? Scusami. Uno scienziato abbastanza... Scienziato Bart con Eggiem. Ok. Tipo psico. Quindi non abbiamo nessuna mosso di tipo buio. Parca miseria. Vabbè. Abbiamo comunque, ragazzi, uno Sneasel overpower in attacco fisico. Ma non è ancora così forte, purtroppo. Quindi. Taunt non è che mi serva più di taunt in questo momento. Anche Scratch. No. Non ridurci l'attacco fisico, caro. Non ridurci l'attacco fisico, caro mio. Ok. Vai, Sneasel. Vai, Sneasel. Verso il infinito e oltre. Sconfiggilo questo. Eh. Ho paura che non ce la farà sconfiggilo in tempi molto brevi. Non usare un gito ogni due secondi. Dai, ma perché? Oppure tu Sneasel. Critta. Ecco, mamma mia. Ma perché, ragazzi? Perché? Cioè, perché? Sul serio? Sul serio? Cioè, questa grotta mi sta regalando... Non mi sta regalando tante magie questa grotta, veramente. Anzi. Altro che magie. E magari le magie. Le magie mi sta regalando questo Eggie, ma al contrario. Perché sto usando solamente un gito? Confusion. Certo. Certo, certo. Contento te. Guarda, contento te e contenti tutti. Contento soprattutto io che non mi fai niente. Comunque. Allora. Quick attack di questo Sneasel. Vai, Sneasel. Bravo così. Bravo così. 219 sarei anche a livello 10. E impara qualcosa. Faint attack. E andiamo. E andiamo a Berlino. E andiamo a Berlino, Rochette. Ok, al posto di Scratch. Sì, al posto di Scratch. Non mi serve Scratch. Ok. Mamma mia, Sneasel. Grandissimo. Io, la prima cosa che comprerò più avanti sono i repellenti. Ma questo è poco ma sicuro. Ok, qua sopra non devo andare da nessuna parte. Quindi mi sa che... Allora, questo qua cosa vuole, prima di tutto? Ok. Quindi mi sa che... Ok, non vuole niente. E io men che meno. Guarda, non voglio proprio zero da te. Non voglio niente. Ok, quindi... Quindi, proviamo ad andare avanti, ragazzi. Però... Troppi selvatici. Vovamente troppi selvatici in questa grotta. Veramente. Ok, quindi mi sa che la sala giusta è questa qui. No, non è la sala giusta questa qui. Questo cosa? Sei venuto qui per vedere Girachi. Ok, questa cosa non è ovviamente la sala giusta. Quindi, mi viene una domanda spontanea. Qual è la sala giusta, ragazzi? Veramente, qual è la sala giusta? Tanto c'è Smoochum qua. Smoochum appare così dal nulla. Ok. Molto bene. Smoochum, ci sono bei Pokémon qua. E qua non possiamo andare. Ok. Ehm... Molto bene. Quindi, dov'è che dobbiamo andare, ragazzi, in questo momento? Forse dobbiamo andare su. Ok. Quindi, devo di nuovo scendere da questa parte. E andare di qua. Ma no, ma quanti celibatici ci sono? Troppi. Troppi celibatici. Veramente troppi. Ok. Allora. Allora, andiamo su di qua. Perché tanto di qua non possiamo andare. Quindi, andiamo da questa parte. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Miracolo. No. Perché? Perché? Perché questa sofferenza fisica che mi procuri? Mamma mia, ragazzi. No, veramente. Troppi celibatici. Troppi celibatici. Ok. E' Geromai. Questo qua è il Geromai, mi pare. Ok. Siamo arrivati finalmente. Alla fine? Dimmi che siamo arrivati alla fine. Dove sia? Ah, non mi vedevo, ragazzi. Veramente. Non mi vedevo. E questo cosa? Ok. Ce l'avevo finalmente fatta. Ah, sì. Finalmente. Ok. Stiamo cercando Dinor. Probabilmente è già fuori. Andiamo. Grazie a Dio è fuori. Mamma mia, ragazzi. Lo sclero. Lo sclero più totale. Eh, vabbè. Vabbè. Ho fatto mezzo passo in croce. Carbink? Addirittura Carbink? Cioè, ma... Cioè, addirittura? Ok. Adesso corriamo. Beh, vabbè. Però dai. Però, ragazzi. Noibat. Noibat mi piacerebbe prenderlo. Sono sincero. I'm so, so sincero. Però... No. Per il momento no. Andrò avanti così. Ok. Ehi la... Ehi la... Una Pokéball. O dieci Pokéball. No. Come plume fall... Come fossi il piuma? Ma cos'è Arken? Fai un po' vedere. È Arken questo qua. Fossi il piuma. Ma perché? Ok. Ok. Dimmi che sono uscito. Sono uscito. Grazie. Eccoli qua. Cosa fate? Un picnic fate? Ok. Sei arrivata. Andiamo. Non abbiamo tempo da perdere. E lo dice a me. Ok. Sono scappati via questi infami. Quindi, ragazzi. Veramente. Questa grotta è stata veramente un parto. Ma... Non perché era brutta. Non perché era brutta. Ma... Ragazzi. Non potete mettere tutti questi selvatici. Senza manco un repellente. La gente... La gente che le faccia un let's play. Sclera. Veramente. Ok. Qua non ci trova nessuno. Non ci incontra... Nessuno che ci sfida. Vediamo un po' che selvatici si trovano in questo... Caterpie. Ok. Ragazzi. Sneasel lo prendono volentieri. Sneasel. Veramente. Sneasel. E... Entra a far battere il mio team al posto di Bagramite. Caterpie. Ok. 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 Basta. Caterpie. Tu. Tu non fai per me e io non faccio per te. Quindi nessuno fa per... Nessuno fa per sé in poche parole. Ok. Cos'è questo boschetto? Molto strano. Molto strano questo boschetto. Molto strano. Dai! Mamma mia. Mamma mia. Non ci credo. Ragazzi. Non trovo più le parole necessarie per descrivere tutto ciò. Ok. Comunque. Allora. Vediamo. What the fuck? Un Bufat e un Taos che si prendono a cornate. Si cornificano a vicenda. Shhh. Fate piano. Non dobbiamo renderli più arrabbiati. Che figata. Che figata ragazzi. No. Guardateli. Mamma mia. Si prendono a cornate. Si incornano. Non è affascinante? Pokémon serbatici che sono combattuti uno contro l'altro. Stai zitto. Kane. Cosa vuoi fare? Vuoi farci scoprire? Ci sentiranno? E appunto ci hanno sentiti. Ecco. Ecco. Bravo. Bravo. Complimenti. Il Bufalant e il Taos che si attaccano. No. Oddio. Che co... Si possono catturare? Chan. Che bella Chan intanto. Con Noibat. Ok. Allora. Allora. Se si possono catturare io catturo Bufalant. Quindi. Allora. Visto che abbiamo un grandissimo attacco con il nostro Sniso ragazzi. Io direi di approfittarne per sferrare un bel attacco al... Mamma mia. Sono al livello... Sono al livello 12 e 13. Ho visto bene. Ok. Ok. Dragon Breft. Grazie Noibat. Ok. Bravo Noibat. Ragazzi. Sarà abbastanza un problema sinceramente buttare giù questi due Pokémon. Molto bene. Intanto arrivano messaggi sul cellulare. Mentre sto registrando. Proprio i grandi... Il tempismo proprio della Vodafone immagino. Chi è la Vodafone? È la Vodafone. Grazie. Grazie mille. Ok. Comunque sia. Non parliamoci in chiacchiere. E... Allora. Io voglio buttare giù Tauro. Spremmo di tutto ragazzi. Perché se si possono catturare... Io voglio catturare Bufalant. Perché ha un attacco fisico della Madonna. Bufalant. E mi piace. Mi piace anche come Bufalo. Mamma mia. Butta un altro Pokémon. Perché... Ragazzi avete visto la classe... La classe aleatoria di Chan. Gym leader in... In training praticamente. Gym leader in formazione. E a Dragonite al 12. Cioè sei peggio di Lance. Sei un cheater della Madonna. Veramente. Ragazzi. Dragonite al 12. Ma perché? Ok. Vabbè. Uh. Quanti punti. Rage. Aia. Ci fa fuori. Ci fa fuori. Ok. Non ci fa fuori. Adesso. Dragon Rage. Non... No. Non farlo fuori. No. Ma volevo catturarlo. Ma sei un infame. Ok. Tanto veramente Snizzle è salito a livello... A livello 13. E fuggono. Così. Via. Fuggono via. Grazie a Dio. È stato un grande spavento. Ok. 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 Eh. Sì. È stato veramente uno spavento. Ci sono tante cose spaventose qui nella... Nella... In questa regione. Ah. Dinor. Spaventato. Non fammi ridere. Spaventato io? Continuiamo va. Certo. Ma te lo sei fatto addosso. C'è un lago di sotto. Mamma mia. Da quanto te lo sei fatto addosso. Ok. Ma che gli prende a lui? Ah. Non lo so. Ma comunque seguiamolo. Concordo. Ok. Seguiamolo. Seguiamolo. Per modo di dire. Ok. Qua non possiamo andare. E quindi seguiamo quel disgraziato di Chan. Ok. No. Aspettate un attimo. Io dov'è che devo andare? Devo andare di qua? Ok. Wow. Bella questa foresta. Bella questa foresta. Mi piace veramente un sacco. Allora. C'è questo clima... C'è questo clima nebbioso. Guarda... Ah. Le cose che c'erano anche in nero e bianco. Non possiamo entrarci però. Questa non va bene. Ok. 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 Eh. Questo qua mi sfiderà immagino. Vero? Biggest forest. Ma ci sono i tipi... I tipi spettro ci sono. Wow. Guardate... Guardate... Guardate lo sfondo di lotta. Guardate lo sfondo della lotta ragazzi. È qualcosa di sublime. Sublime. È bellissimo lo sfondo di lotta. Veramente. Ok. Dato che tutto siamo anche a livello 14. Guardate l'attacco 33. Livello 14. Voglio imparare Icy Wind. Ok. Ok. Sicuramente te lo faccio imparare. Questo è poco ma sicuro. Però attacco speciale. Però... Al posto di... Eh... Al posto di... Dai. Al posto di Lear. Lo voglio... Lo voglio avere. Una mossa tipo ghiaccio la voglio avere comunque. Ok. Eh... Allora di qua non si passa, no? Ok. Di qua non si passa ragazzi. Quindi... Se non riusciamo a trovare la strada stopparemo anche da parte visto che siamo... Ok. Oh. Quell'albero è scomparso. Qual è l'albero? Scusami. Non ho visto... Non ho visto nessun albero scomparso. Ok. La strada giusta è questa. Ok. È molto... Mi piace un sacco questa ambientazione. Spetta... Cosa? Ma che succede ragazzi? Che sta succedendo? Ci fanno degli sch... Ah. Sono queste alberi qua che li scompaiono. Mi ricordano gli alberi del mondo distorto questi qua. Non so perché ma... Ok. Dove dobbiamo passare adesso? Scusatemi. Ditemi dove dobbiamo passare. Ah. Di qua. Ok. Di qua. Ok. Un altro Pokémon selvatico però. Non va bene. Soltanto gastri. Io pensavo si trovassero con le otter in questa zona. Quindi pensate un po' voi. Cioè veramente. Ok. Allora... Ma che cavolo... Che sta succedendo? Cara. Tutto bene? Forse faremo bene a stare in team. Stare insieme praticamente. Ok. Calmati. Calmati. Chi è quella persona? Ma chi è? Uh. Ma è un fantasma. Ma ragazzi. Non capisco più niente. Mmm. È incosciente. No. È really smart. Smart non so cosa voglio dire. Veramente. Non l'avevo vista. Dobbiamo partire dall'accademia. Non possiamo lasciarla qui. Ok. Non possiamo... Per niente lasciarla qui. È un fantasma. Sembra. Ok. Ma... Possiamo... Possiamo mandare sulla goppa del tuo Alcane. Ho letto bene. Ok. Praticamente ragazzi. L'abbiamo dato Alcane. Oppure no. No. Alcane è qui. Non capisco cosa è successo ragazzi. Oppure... Devo seguire Chan. Anch'io. Ma Chan dove è andato? Ok ragazzi. Facciamo così. Seguiremo Chan nella prossima parte. Perché quest'oggi abbiamo fatto fin troppo. Sono successe fin troppo. Fin troppe cose strane. Quindi ragazzi. Vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo video. Quindi ragazzi. Mi raccomando. Lasciate almeno... Proviamo a superare di nuovo i 100 mi piace per questo secondo episodio. Un bel mi piace. Una bella iscrizione al canale. Ragazzi. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Un saluto da Rocket come sempre. E ovviamente. Bye bye.